cari amici di una parola al giorno continuiamo la lettura del nostro dodicesimo capitolo quello che ci accompagna in questa settimana i versetti che leggiamo oggi vanno da 12 a 19 il giorno seguente la grande folla che era venuta per la festa udito che gesù veniva a gerusalemme prese dei rami di palme e uscì incontro a lui gridando osanna benedetto colui che viene nel nome del signore il re di israele gesù trovato un asinello vi montò sopra come sta scritto non temere figlia di sion ecco il tuo re viene seduto su un poledro d'asina i suoi discepoli sul momento non compresero queste cose ma quando gesù fu glorificato si ricordarono che di lui erano state scritte queste cose e che a lui esse le avevano fatte intanto la folla che era stata con lui quando chiamò lazzaro fuori dal sepolcro e lo risuscitò dai morti gli dava testimonianza anche per questo la folla gli era andata incontro perché aveva udito che gli aveva compiuto questo segno i farisei allora dissero tra loro vedete che non ottenete nulla ecco il mondo è andato dietro a lui il testo che abbiamo letto oggi è bellissimo perché entriamo nella settimana santa proprio attraverso quello che è poi diventato il gesto liturgico della domenica delle palme la parola che ho deciso di lasciare per oggi è proprio palme perché sono il segno concreto di questo gesto di accoglienza che gerusalemme fa nei confronti di gesù e badate bene la comunità giovannea ci fa capire chiaramente che soltanto dopo hanno capito fino in fondo quello che hanno fatto con gesù tant'è vero che attribuiscono poi a lui la profezia di zaccaria quella non temere figlia di sion ecco il tuo reviene seduto su un puledro d'asina cioè l'evento della pasqua e la vita della comunità consente di rileggere l'esperienza che hanno fatto storicamente con gesù e di trovarne le radici profonde nella scrittura in questo caso è la profezia di zaccaria nel caso invece dell'osanna è la citazione di un salmo ma quello lo capiamo di più perché perché il salmo è la preghiera è la lode di israele quindi è chiaro che la folla di gerusalemme quando salutava lo salutava con le parole che conosceva e le sceglie appunto da un salmo che inneggia proprio la benedizione benedetto colui che viene nel nome del signore il re di israele tenete bene a mente quanto poi diventeranno significative anche nella nostra liturgia le parole che vengono dette qua che vengono riportate in questo gesto di accoglienza appunto di nei confronti di gesù quindi la scena è ben conosciuta e le palme oggi ci accompagnano intanto che seguiamo che cosa sta accadendo se ci fate caso il segno del cieco ha condotto a lazzaro il segno di lazzaro ci conduce dentro gerusalemme cioè giovanni ci prende per mano e attraverso i segni compiuti da gesù ripensati dalle persone che lo seguivano ci fa comprendere il mistero che noi abbiamo davanti ai nostri occhi mi piace farvi fare subito la riflessione finale perché noi per bocca dei farisei abbiamo quella che sarebbe la valutazione se ci fermassimo nell'evento storico di gesù alla domenica delle palme cioè vedete che non ottenete nulla il mondo è andato dietro lui tenete presente che questo termine tecnico andare dietro andare dietro a qualcuno andare dietro a lui noi lo conosciamo perché nei vangeli anche nella tradizione sinottica lo leggiamo venite qui dietro di me è la sequela del discepolo quindi sembrerebbe di primo acchito che la vicenda terrena di gesù lo incoroni re di israele mediante una manifesta sequela della folla della gente mi verrebbe da dire sembrerebbe un grande successo un grande successo di popolo le abbiamo davanti queste palme che in questa giornata incoronano il re di israele lo accolgono nella sua città ma non dimentichiamo e per giovanni è chiarissimo che quella folla crede perché c'è stato il segno di lazzaro cioè la folla che era stata con lui quando chiamò lazzaro fuori dal sepolcro cioè il segno di lazzaro diventa uno spartiacco e quindi mentre il segno del cieco ci ha introdotto all'accettazione di lui come l'inviato di dio il segno di lazzaro spalanca le porte a lui dio manifesta pienamente che lui e il padre sono una cosa sola e questo è l'elemento che sarà la goccia definitiva che fa traboccare il vaso allora intanto che oggi teniamo ben presente queste palme che sono festanti nell'accoglienza di un gesù mite umile pacifico questa è la profezia che viene riportata in questo testo facciamoci accompagnare da un versetto che noi troviamo in questa sezione e che ci aiuta tantissimo la domanda dalla quale parto per fare questa ulteriore riflessione è la seguente come mai chi ha visto con i propri occhi chi è stato disposto ad accogliere gesù come il re di israele poi fa così tanta fatica a credere noi capiamo la difficoltà della fede la difficoltà del riporre le nostre certezze in colui che è la luce del mondo da questo versetto che ora vi sottolineo i suoi discepoli non qualcuno a caso i suoi discepoli quindi quelli che sono stati sempre con lui sul momento non compresero queste cose la fede ha bisogno di tempo di ripensamento anche se hai davanti l'evidenza prenditi il tempo per pensarla rifletterla masticarla nuovamente e noi ne abbiamo una fortuna incredibile perché la parola di dio è a nostra portata tutti i giorni ma quando gesù fu glorificato si ricordarono che di lui erano state scritte queste cose e che a lui esse le avevano fatte allora avremo poi bisogno di entrare nella logica dei discorsi di addio del vangelo di giovanni per capire che c'è bisogno dell'intervento di qualcuno che ricordi le parole e ricordi tutto e questo qualcuno sarà lo spirito che nel vangelo di giovanni lo spirito santo così come noi lo conosciamo è lo spirito di verità e ha un compito quello di ricordare ma non ricordare soltanto perché la mente torna a un ricordo lontano del tempo no perché ne hai una comprensione più piena allora oggi cerchiamo di avere davanti ai nostri occhi queste palme che dicono la regalità di gesù e di fermarci per noi per la nostra vita a dire quante volte abbiamo avuto bisogno di ripensare a un'esperienza che abbiamo fatto un confronto un'esperienza positiva oppure negativa questo non importa ma noi rivediamo davanti a noi quelle scene come quelle palme che i suoi discepoli avevano davanti agli occhi come esperienza vissuta ma che solo dopo con la pazienza e l'aiuto dello spirito hanno saputo coglierne tutto il valore e allora siamo pronti con il profumo del nardo che ieri maria ha sparso in tutti noi e con nelle davanti a noi le palme della del riconoscimento di gesù come re di israele siamo pronti ad entrare anche noi dietro di lui a e allora siamo pronti ad entrare anche noi dietro di rispettare anche noi dietro di rispettare anche noi grazie a tutti Grazie.